venerdì 10 giugno del 2022 ben ritrovati ragazzi a tutti voi buongiorno da Manuel questa è Forza Lazio partiamo con il nostro video di introduzione ben ritrovati ragazzi buongiorno a tutti voi in primis volevo ricordarvi che su youtube ci trovate come Forza Lazio mentre su tutti gli altri nostri social mi riferisco chiaramente al facebook instagram twitter e tik tok un grazie di cuore lo faccio poche volte o meglio delle volte mi sfugge mi dispiace molto un grazie di cuore ai nostri amici abbonati ok che mai come oggi sono importanti per la sopravvivenza di questo canale poi dopo farò un video dedicato perché vi dico la verità queste cifre folli sparate da Dazon ieri se poi ci sommiamo la piattaforma che utilizziamo per andare in diretta comincia a diventare un pochino impegnativo portare avanti questo progetto però poi ne parleremo vi ricordo che in descrizione trovate tutti quelli che sono i nostri riferimenti a cominciare dal nostro sito www.canaleforzalazio.com all'interno del quale vi invidio che lo vedete in questo video come si fa invidio in sovraimpressione come si fa vi invidio a cliccare su segui per essere aggiornati in tempo reale su quelle che sono appunto le notizie che facciamo uscire allora voglio raccontarvi oggi una storia davvero bizzarra che però credetemi in casa Lazio si sarà ripetuta almeno per mia stretta conoscenza in questi 18 anni mi tengo pure stretto 7 8 volte ed è la storia di Ilic il giocatore che la Lazio clamorosamente non capirete perché uso questo termine clamorosamente sta trattando la Lazio vi do la notizia qualora ancora non l'abbiate non l'abbiate vista da qualche parte ha trovato l'accordo con il procuratore del calciatore per un prestito per scusatemi per un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione ilic e del verona da due anni ilic e qui viene ti viene rabbia qua ti viene rabbia ilice ragazzi tre anni fa la Lazio lo aveva in pugno la Lazio lo aveva in pugno era un giocatore della Lazio preso fatto indovinate perché la Lazio non lo prese tre anni fa perché era troppo giovane no perché magari guadagnava aveva chiesto troppi soldi la squadra proprietaria no perché aveva chiesto troppi soldi il calciatore no semplicemente perché la Lazio come al solito qua a Roma vuol dire sei di coccio quando si fa così la Lazio come al solito per cercare di racimolare racimolare quei 50 100 200 300 mila euro da risparmiare nella trattativa non prese ilic dopo che gli era stata dietro due mesi arrivò al verona e in due giorni prese ilic oggi lì c'è un calciatore che viene da un campionato disputato di buon livello non ottimo attenzione cominciamo subito a chiarire perché un giocatore deve ancora crescere tantissimo da un campionato disputato di buon livello attenti anche all'interno di quale contesto ilic ha disputato questo buon campionato un verona in cui ha girato tutto perfettamente nel verona ragazzi una macchina perfetta un un ottimo calcio espresso dal verona davvero tutto perfetto e l'anno perfetto l'anno ottimo pesca pescato dal dal verona quindi valutare il calciatore anche nel contesto nel quale si è espresso per raggiungere certi target di rendimento io dico bene prendere ilic ma tu oggi ilic anziché pagarlo 3 4 milioni tre anni fa oggi ti va bene se lo paghi 12 13 e qui mi sorge un altro dubbio la lazio non c'ha una lira deve ripetiamo lazio è scritta al campionato già ve l'abbiamo scritto sul sito però per non andare in contro a delle sanzioni ha bisogno di sistemare ulteriori parametri per i quali servono circa 4 5 milioni di euro freschi nelle casse della lazio sono i 4 5 milioni di cui ho sempre parlato al contrario dei 15 18 che molti dicevano ma questo poco mi importa prefisco guardare in casa mia quindi partendo dal presupposto che la lazio entro il 22 giugno deve mettere questi soldini nelle casse io mi pongo un'altra domanda stai lavorando per casale 12 13 milioni stai lavorando per ilic 12 13 milioni stai lavorando per il portiere carne secchi mi auguro sia lui 12 13 milioni ma tu lazio sti 35 40 milioni di euro da dove li tiri fuori da dove li tiri fuori allora si è detto che tu vai a sistemare il parametro dell'indice di liquidità che non è che serve per iscriversi ripetiamo la lazio è iscritta non ci sono dubbi se non sistema questo parametro la lazio rischia delle sanzioni che possono essere al 90 per cento economiche al 10 per cento un punto di penalizzazione in campionato orientativamente ok allora la domanda è che tu adesso sistemi il parametro con le cessioni con le cessioni speriamo dei tuoi esuberi e va bene poi magari hai quei soliti 14 18 20 milioni di euro che ogni anno hai che l'europa league per esempio ti ha portato e va bene però poi ti mancano quei 15 18 milioni di euro e tu come fai dove li trovi quindi morale della favola per come la vedo io simeone è uscito fuori pure la storia di simeone cioè ragazzi tutte stupidaggini ok allora se il discorso è questo se hai preso marcos antonio questo è un colpo se prendi ilic secondo me vuol dire che tu hai in canna la cessione di qualche calciatore chiaramente parli di ilic ti viene in mente lui salberto faccio un esempio io poi faccio anche un altro tipo di ragionamento prendi ilic prendi marcos antonio e porca miseria la in fisicità in qualità magari ci guadagniamo qualcosina forse ma in fisicità ragazzi il centrocampo della lazio è diventato un centrocampo dei nanerottoli perdiamo anche come fisicità là e mezzo comincia a diventare penalizzante la situazione questo è il motivo per il quale credo poco alla voce a ilicic alla trattativa di ilicic ci chiedo davvero poco ripeto a meno che la lazio sta cedendo lui salberto ed è una notizia che uscirà fuori così all'improvviso ecco magari potrebbe essere anche questo io ve lo dico subito non ho sentore per ora di questa situazione il mercato della lazio deve pianificare le trattative nel mese di gennaio in modo che scatta la mezzanotte arriva il primo luglio e tu il primo luglio ta 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 ufficializzi vediamo di chiudere questo discorso romagnoli se davvero romagnoli deve venire alla lazio e io manual vi dico già da due mesi che romagnoli verrà alla lazio e qui mi fermo ci metto la faccia pronto a a prendermi la cacca in faccia qualora non sia così non fosse così va bene non ci sono problemi però ragazzi miei cominciamo a definire le strategie per romagnoli si dice che manchi ancora qualcosina marcos antonio è fatto per casale stiamo a un buonissimo punto ragazzi per casale stiamo davvero a un buonissimo punto però è ora di cominciare a definire chiudi la bozza d'accordo la metti in pratica stretta di mano con la società il primo luglio ufficializziamo stop 1 2 3 stop discorso portiere in fase di valutazione mi auguro mi auguro mi auguro assolutamente nonostante tutto che sia carne secchi il prossimo portiere della lazio perché ti metti a posto per 15 anni la porta e credetemi carne secchi per me è uno da lazio ok ecco varie riflessioni ecco